ciao a tutti cuoricine e cuoricine come state speriamo bene oggi ragazzi siamo qui con voi con un pacco di temo apriamolo insieme e vediamo cosa c'è all'interno allora ho aperto il pacco e ma ragazzi un po sto finendo ad aprire ragazze allora all'interno proviamo questi contenitori piccoli che poi potete metterci anelli non lo so orecchini piccolini certo per non perderle guardate fatto così e rosa con il suo coperchio trasparente e ne sono ben sei ecco qua guardate io sono ben sei poi ho preso ho preso ragazze il vestito di carnevale ad azzurra e adesso lo guardiamo insieme allora all'interno esce già comunque tutti gli accessori adesso li vediamo insieme però guardiamo prima che ci sono pure i guanti allora il vestito preso 12 13 anni guardate è così e sul davanti ha una rosellina un fiorellino giallo guarda comunque fatto così si apre così con la sua cernerina zitto guardate ed è molto bello guardate molto carino sono contenta del mio acquisto poi sul vestito di belle ragazze perché è il vestito di bello della bella e la bestia ho preso questo che ho preso io sono usciti nel vestito si perché la bella ce l'ha si adesso facciamo vedere subito ma proprio subitissimo eh questi gli accessori allora è uscita la sorroncina sempre gialla con questi cuori rossi guardate è molto carina poi è uscito è uscito è uscito la collana gialla con gli orecchini eccoli qua e un anello si poi c'è il suo scettro guardate è molto carino e poi ci sono i guanti e la mia cosa preferita è di guanti guarda sì sì con il fiocco giallo e il questo affarino un po' rosso quindi diamante rosso lunghi sono lunghi poi riguardo sempre al vestito ho preso queste che sono carinissime almeno speriamo perché da come le ho viste guardate le scarpette che vanno sotto al vestitino di belle adorate che richiamano un po' il vestito guardate qui c'è questo effetto di luna con la stella questo tacchino e l'ho preso 36 e mezzo speriamo di stare sì massimo le metto io se ti stanno se ti stanno larghe le metto io che ho 38 eh questo comunque dovrebbe essere 36 e mezzo anche se sotto c'è scritto ragazzi 38 e io non capisco perché ah allora di più 38 quindi sì vabbè poi ce le adatto io se ti andranno un po' larghe ce le adatto io oppure se non vanno strette no non ti vanno strette tranquilla speriamo sì poi ho preso due mentole che sono proprio piccole proprio come faceva vedere l'annuncio guardate tutti rosa e io adesso devo devo pensare a cosa farci sono delle mentole da attaccare al muro puoi metterci valute cosa adesso vediamo un attimo pensiamo sul da farsi sono uscita queste e poi c'è il suo attacco guardate poi ho preso questi cuoricini che pensavo fossero un po' più grandi ma alla fine sono sono venuta a scoprire ho scoperto che sono no sono dei cuoricini portaghi portaghi sì vabbè io li userò così come decorazione sulla scrivania non lo so vabbè qualcuno perché li ho presi due mi ho presi due e anche cioè questi uno lo userò come decorazione l'altro lo uso per portare gli aghi come porta aghi guardate sono identici e dietro hanno questo elastico che non capisco perché però va bene ci piace ti piace vai allora poi per ultima cosa abbiamo preso queste bacchette perché noi ragazzi mangiamo tanto i noodles con questi perché noi il sushi no ragazze non ci piace e che schifo vabbè poi comunque ognuno fa come vuole comunque questo qua adesso ve le faccio vedere vediamo il sushi allora che sono due verdi guardate due verdi perché bisogna fare così veramente è una è una sola ma io pensavo che fossero di legno beh valla ad usare adesso boh chissà come si ma io pensavo che fossero di legno no sono d'acciaio e queste sono azzurre che poi è una sola raga cioè due una coppia una coppia forma una bacchetta questa è bianca oppure sul beige guardate e poi ci sono queste rosa che andranno a moi a me l'azzurro a lei l'azzurro che è in verde e proprio a bianco e niente ragazzi il video no aspettate devo far vedere l'ultima cosa mi dimenticavo di sta cosa esatto oh ma io non riuscirò a mandare il sushi no adesso vediamo azzurra vediamo come si chiuseranno vabbè comunque sì io forse lo so come si chiusano perché vedo di cinese che mandano quella cosa con le bacchette eh vabbè poi ho preso questo braccialetto con questo pendente a cuore perché ragazzi a me i braccialetti con i pendenti a cuore mi fanno impazzire e comunque questo ha la cappa guardate per Katia non per nessuno per Katia comunque guardate che bello è acciaio inossidabile e niente ragazzi questi sono tutti i nostri acquisti noi speriamo che vi sia piaciuto il video se è così lasciate un like se non siete iscritti iscrivetevi al canale e attivate la campanella così sarete sempre finati sui nostri video sui nostri video e noi come sempre vi ringraziamo ehm di tutto e speriamo mettete un like a questo video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video come sempre ciao 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 Grazie a tutti.